E salve a tutti ragazzi qui come sempre il vostro area e benvenuti in questo nuovo video Cosa sta succedendo qui? Ho degli strumenti diciamo particolari Perché? Perché oggi vedremo come riparare le famose giunture maledette degli Armor Plus Bandai Quali giunture? Naturalmente sto parlando di queste qui che collegano le gambe al bacino Cosa hanno che non va? La vergogna di banda è stata creare delle giunture, produrre delle giunture che non resistessero al tempo e agli sforzi Guardate qua, la gamba, ecco qua, non riesce a reggere il movimento e va giù Perché? Perché si può vedere chiaramente che la giuntura si sta spaccando Questo qui è un Armor Plus che mi è appena arrivato ma assolutamente non è colpa di chi me l'ha venduto È usato, chiaramente usato Ma anche in quelli nuovi ragazzi tranquilli che dopo un po' di tempo se iniziate anche leggermente solo a muovere, a posare le figure Le giunture iniziano a spaccarsi in questo modo veramente vergognoso Questa qui fortunatamente è ancora intatta ma si sente già proprio al movimento che c'è qualcosa che non va nella giuntura E allora ragazzi adesso oggi vedremo come sostituire queste giunture con queste che ho stampato io in 3D Non sono delle repliche delle originali come vedremo, ve le farò vedere, le metterò a confronto Sono leggermente diverse ma sono in dettagli praticamente interni Quello che conta è la sfera che si vede fuori dalla gamba E quello lì ragazzi vi posso assicurare che terrà molto molto meglio e poi sono praticamente indistruttibili queste giunture Sono di un materiale veramente indistruttibile Allora non perdiamo altro tempo Prendiamo il nostro Armor Plus La prima cosa da fare è staccare la gamba Fate attenzione semplicemente a non sforzare troppo questa sfera Ma per quanto riguarda la giuntura potete tirare normalmente anche se si rompe Tanto bisogna sostituirla Togliamo anche quest'altra Eccola qui Ripeto questa qui è ancora intatta ma secondo me non ha senso tenerla Perché tanto dopo un po' di tempo si inizierà a rompere come quella che si sta già appunto spaccando Allora cosa dobbiamo fare? Per prima cosa è essenziale riscardare la plastica della gamba utilizzando il phon Lo faccio proprio in diretta Bastano una ventina di secondi massimo Poi tramite questa pinza cosa faremo? Andremo a prendere la giuntura e ad estrarla vedete dalla gamba che ha la plastica ammorbidita ovviamente Bisogna fare comunque un po' di forza Se vedete che la plastica non si è ammorbidita riscaldate un altro po' Però vedete dopo una ventina di secondi di phon si dovrebbe essere scaldata a tal punto Per poter estrarre appunto l'articolazione E adesso ragazzi sfruttando comunque ancora il calore che è presente sulla plastica Andremo semplicemente ad inserire la nuova giuntura stampata da me Eccola qua Guardate entra senza alcun tipo di problema Fa anche un bel click Ed ecco qui la gamba con la nuova giuntura Assolutamente non si nota neanche per sbaglio la differenza Naturalmente c'è differenza tra la forma delle due giunture Ve la faccio vedere questa qui è quella vecchia che si sta appunto per spaccare Questa qui è quella nuova ragazzi Ma la differenza è veramente solo nella parte interna Ma ho notato che anche con questa forma regge benissimo assolutamente Altrimenti non avrei fatto questo video Adesso ragazzi basta rimettere questa giuntura sulla gamba Bisogna tenere praticamente questa sfera più o meno in orizzontale Poi tenendo la gamba in questo modo spingendo sulla giuntura Ecco qua con un po' di forza si andrà a far entrare vedete la sfera dentro la nuova giuntura Ed ecco qua ragazzi che la gamba è montata di nuovo E la solidità della gamba si può già testare adesso Guardate non si muove neanche minacciandola con una pistola Guardate qua Ecco qua non cade neanche per sbaglio Facendo un sacco di movimenti forse si riesce a muovere un po' Ma è veramente solidissima Ecco qua E adesso bisogna fare la stessa cosa Lo stesso identico procedimento Con quest'altra gamba Ed ecco qua ragazzi il nostro simo Con entrambe le giunture sostituite Come vedete non si nota praticamente la differenza Essendo semplicemente delle giunture bianche alla fine Cioè non c'è nulla di particolare Quello che conta è la solidità appunto Ovviamente l'estetica va rispettata E queste la rispettano assolutamente in pieno Guardate qua le gambe non si muovono più Neanche di un millimetro Ecco qua solidissime ragazzi Solidissime al massimo E ovviamente ragazzi l'ho fatto anche su Rio in armatura bianca Conociuto anche come Ariel Erroneamente ovviamente Queste qui che vedete sono le giunture che sono andato già a sostituire Io sono già sostituite Quindi la gamba come vedete Proviamo ad alzarla Ecco qua Con tutta l'armatura si regge perfettamente Non si muove di un millimetro Ed è così che sarebbero dovute essere queste giunture Se non credete che siano state sostituite Ecco qua Le vecchie giunture ragazzi Queste qui Sono quelle che aveva la figure Guardate qui questa qui come è ridotta Perché si spaccò e provai a ripararla in ogni modo Ma non c'era niente da fare Questa qui più o meno era intatta Ma era diventata comunque molto lusa Quindi le ho sostituite entrambe E allora ragazzi Spero che questo video vi sia stato utile Se voleste diciamo anche voi Ordinare queste giunture create da me Le trovate sia su ebay Che trovate qui sotto in descrizione Oppure credo che le metterò anche sul mio sito Aras Reviews Shop Lo trovate qui sotto Oppure nella scheda lì in alto Se non volete cimentarvi in questo procedimento Di scambio delle giunture Potete anche inviarmi i vostri samurai troopers Che hanno bisogno di questa riparazione Cinque samurai E io procederò alla riparazione Semplicemente al costo delle giunture Non aggiungerò nessun altro costo Tranne ovviamente quello della spedizione E poi di ritorno Comunque ragazzi Questo video finisce qui Fatemi sapere con un commento qui sotto Cosa ne pensate di tutta questa storia Lasciate il like se questo video vi è piaciuto E se volete aiutarmi ragazzi Condividete questo video Detto questo Grazie a tutti per la visione Noi ci vediamo alla prossima Ciao Dara E collezionate sempre